Buonasera, benvenuti a un esperimento. Stasera noi affronteremo una delle sinfonie più famose e conosciute della storia della musica che è la Quinta Sinfonia di Beethoven, la spezzeremo nei suoi movimenti che cercheremo di spiegare. E ovviamente questo modulo rimane per tutta la sinfonia. Vedete, la stella sta ruotando, ma i getti guidati dal campo magnetico non sono allineati con la rotazione e così accade che voi non vedete i getti, sempre, li vedete solo quando ecco, siete allineati. Ora, quella pulsazione lì è l'orologio più preciso dell'universo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.